Ancora sbarchi nel Salento, ancora uomini e donne in fuga dalla loro terra in cerca di una nuova vita altrove. Dopo gli ultimi due avvenuti tra Torre San Giovanni, Marina Dugente e Felloniche, proprio nella notte è stata rintracciata a largo di Leuca un'imbarcazione con a bordo 129 migranti, provenienti dall'Afghanistan, dalla Siria, Iran e Iraq, Kurdistan e Turchia. Tra questi 56 uomini, 33 donne e 40 minori. Per loro è stato un viaggio difficile a causa delle avverse condizioni meteo, a bordo tra l'altro di un peschereccio di circa 18 metri. E come se non bastasse, forte vento ha increspato le acque e l'imbarcazione, stipata oltre ogni limite di capienza, dopo un primo avvistamento intorno alle venti, si è bloccata con i motori in avaria, 15 miglia dalla meta. A quel punto, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Bari, tre motovedette di Gallipoli, Otranto e Santa Maria di Leuca sono state inviate in soccorso del peschereccio, che successivamente è stato condotto verso il porto di Leuca. Qui, i migranti sono stati accolti dai volontari della Croce Rossa italiana. Fortunatamente non è stato necessario alcun ricovero, tutti erano in discrete condizioni. Solo alcune donne e anziani sono apparsi molto affaticati, disidratati e stremati dal lungo viaggio. Ma una volta visitati dal medico sul posto, i 129 migranti sono stati accompagnati sui pullman, per poi raggiungere il centro di prima accoglienza, ossia a Masseria Ghermi e a Lecce. Nel frattempo, le indagini sono in corso per capire se del gruppo fanno parte anche alcuni scafisti o se invece sono fuggiti prima dell'arrivo dei militari della Guardia Costiera.